oh raga canna tutta piegata carpona della madonna dai due la che ovvera canna 10 maggio sono andando a siluri ma ho preso due siluretima la carpa vediamo dai no sotto la pianta no non andò sotto la pianta no io posso fa ma cazzigla ma cazzigla no canna c'è la canna sta lavorando di brutta grande andrea vai tira lassù ok panaro ragazzi ho appena preso una rana bue inserciato ragazzi con un carpone enorme speriamo di cavallo no 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 non andare c'è solo del 18 presa tirata è che roba è che roba adesso ha deciso di ha deciso di andare no dai vieni bellissimo e fatti vedere almeno vacca boi slebela grande bellissimo se parte una bua sono rovinato ragazzi se parte una bua sono rovinato perché roba è che roba no dai vieni dai non ti slamare no no mi stampa dai vieni qua dai su ma la canina diobosse sei grossissima bellissima la devo prendere dai ragazzi diobosse è bella dai vieni a 7 8 kg è sicura sicura ma che bestia ma che bestia bellissima è più la corrente che il resto se non c'era la corrente ho del 20 ragazzi no 18 vai vieni 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 bella vieni bella dai ormai è andata dai ragazzi guarda 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 in fiume che belle perché bei pesci che si prendono rega ma in fiume che pesci che si prendono guarda spettacolo allucinate bellissima ragazzi la corrente che mi fa morire lo fa morire guarda la bellissima grossissima la canna tutta piegata dal 18 ragazzi è bellissima è già la seconda che prendo è lontano sembra piccola ma è bellissima è bellissima la devo cavare a tutti i costi la ragazzi adesso la devo inguadinare accorciamo la canna che c'è una canna da cinesi che si accorce vieni bella bellissima vieni 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 è la corrente che non riesco c'è una corrente della madonna lì rimane in corrente forte è lei vede se non l'avevo già inguadinata grande raga grossissima sembra piccola ma sono lontano ma è bellissima è bellissima e che carpa o ragazzi in fiume con del 18 per set diretta non è mica facile ora mi mollo mi mollo mi mollo la prova inguadinare grandissimo che annissimo bellissimo